100kz 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 Questa è la grandissima eh! Sono delle pallette tipo waffle Un po' scottano perchè li hanno appena fatti Buoni! Manciuga è un piacere C'è questa roba? No Alla fine Alla fine è la pastella dei waffle Delle crepe quello che volete Farina, latte, zucchero E' molto tipico e tradizionale qua questo Dolce e tipico di Hong Kong in strada Vedetevi stare al mio sito www.marcatagni.it E al prossimo video da Hong Kong Ciao ciao Ciao!